Bellissimi! Bentornati nell'applicazione sviluppatori di Clash Royale, io sono Grax e sono qui per spiegarvi la modifica più incredibile mai effettuata e droppata all'interno di un gioco Supercell. Ve la spiegherò nel dettaglio, vi chiedo in cambio solamente 5000 like totalmente gratis il supporto, iscrivetevi a campanella, molti di voi non sono iscritti per ricevere appunto in tempo reale tutti gli aggiornamenti eccetera. Codice Grax alla fine dello shop, se shoppate il prossimo passo, il passo attuale che sarà l'ultimo nel vecchio stile, prima di andare avanti vi farò vedere anche il nuovo negozio stagionale che arriverà con la prossima stagione leggermente modificato e poi tutto quello che riguarda il percorso delle leggende che verrà totalmente stravolto. Rimanete sintonizzati, vi voglio anche dire che è ufficiale il 16 aprile, domenica 16 aprile, credo nel pomeriggio ancora non so perfettamente l'orario e il posto, ve lo comunicherò nei prossimi video però è giusto per informarvi, seguitemi su Instagram per maggiori dettagli e informazioni. Sarò a Terni per il TIC, il Terni Influencer Festival, primo evento nella storia a Terni, non potete mancare, faremo un torneo di Clash Royale, posso giocare col pubblico, ci saranno magari premiati, roba fantastica, non mancate se potete partecipare. Detto questo andiamo nello shop, diciamo che la Supercell ci ha ascoltato, comunque io sono agitato a fare sto video perché sto per comunicare un qualcosa di storico all'interno di un gioco Supercell che non so se metterà tutti d'accordo, è impossibile, sicuramente ci sarà parte del pubblico indignata, altri che sono più standard, che vogliono il vecchio stile di gioco, altri invece che accettano il progresso, qualcosa di nuovo, ne parliamo tra pochissimo. Comunque negozio stagionale cambiano le tre carte iniziali, non so se vi possono interessare, dovrebbero essere queste, abbiamo l'oro come era già stato presentato prima, aumentano jolly comuni, jolly rari, jolly epici, jolly leggendari molto bene, il libro della prossima stagione sarà un libro epico, ci sarà un libro ogni stagione salvo modifiche in teoria. Hanno messo anche un campione per, diciamo, mascherare la mancanza del baule jolly gratis nella parte destra del pass gratis, sì, 35.000 se tu fai due conti, 1000 punti al giorno, parlo per i free to play, quelli che proprio non shoppano niente, 1000 punti al giorno più 1000 del pass, so 31, più o meno, poi dipende dalla stagione, 35.000, ok, te prendi solo un campione, quando prima te prendevi jolly, chiavi, token, baule jolly e libro. Ovviamente non funziona l'equivalenza, no? È anche vero che il libro delle carte epiche costa parecchio, perché appunto è delle carte epiche, magari con la prossima stagione se ti mettono il libro delle carte rare, ti costerà sicuramente di meno, puoi prendere più ricompense. Vabbè, il mio parere è che sì, a questo punto i free to play ci hanno rimesso il baule jolly. Quelli che shoppavano il pass a 5,99€, che era l'equivalente di 4,99$, adesso avranno un pass che gli costa di più, ha lo stesso prezzo, tra virgolette, perché gli costa di più. Prendi molto di meno rispetto a prima, sei costretto a prendere quello a questo punto da 13€, poi non so, vedremo lunedì, bene i prezzi, che ti dà più o meno quello che ti dava prima. È logico che se giochi tutti i giorni e prendi 7000 gettoni al giorno da spendere poi nel negozio, hai molte più risorse, però devi giocare la ladder per finire il pass, più giocare gli eventi per prendere 7000 punti al giorno. La mole di gioco è molto maggiore, le risorse di conseguenza sono maggiori, prima facevi molto di meno e avevi poche meno ricompense, perché sì ti danno i token per prendere la roba lì degli standardi. Le emoticon che prima prendevi gratis dagli eventi, adesso sono tutte quante qui nel negozio stagionale, più nello shop a costo euro, costo gemme, quindi hanno anche tolto tutto quel discorso emoticon gratis dagli eventi. Ragazzi, magari arriveranno anche ulteriori aggiornamenti, però al momento mi sento di dire che secondo me è molto più scam per quanto riguarda quelli che erano abituati a shoppare il pass a quel prezzo, rispetto a quelli gratis che sono free to play. Hanno perso il baule jolly, a questo punto. Poi fate voi bene le considerazioni, i calcoli, ho visto che c'è anche un bel post su Royal Api che mette proprio a confronto il vecchio pass con tutti quanti i vari elementi, risorse, tutto preciso. Mi sembra un po' una scammata. Detto questo, andiamo a parlare della ladder che è clamorosa. Ebbene sì, Grax, il 30, perché lo sto registrando dopo l'annuncio, lo vedrete, il 31, vi dà la notizia. Clash Royale diventa a tutti gli effetti il primo gioco Supercell per quanto riguarda il competitivo, non pay to skip. Citando il discorso pay to win, che non lo era neanche prima, adesso ha maggior ragione il pay to win, non esiste. Pay to skip non lo è più, perché nella modalità competitiva dei gradini hanno tolto il livello delle carte, quindi non avremo più bisogno di cambiare deck, eccetera. Per quanto riguarda questa stagione, questo è un test che vogliono fare quelli di Supercell. Hanno tolto la possibilità di utilizzare un deck, andremo nelle leghe con tutti i livelli cappati, quindi massimo livello possibile al livello 11. E per uno che gioca da un anno, due anni, i livelli 11 mi sembrano abbastanza ovvi e sottolivellati. È ovvio, se comincio a giocare a Clash Royale ora oppure ci gioco da tre mesi, non posso pretendere di andare alle medagliette, non avere neanche la skill per poter andare alle medagliette, no? Però pensate a un Grax che ha solamente preso il pass, che tra l'altro il suo deck l'ha maxato a livello 14 nel 2018 quando ancora non c'erano i pass, ma solamente gli scambi, le carte a livello 11 mi sembrano il minimo indispensabile. Oltre a questo, che tutti quanti hanno i livelli 11 cappati, né più né meno, fino alle medagliette, oltre, eccetera, non si potrà giocare più con il deck, ma con la sfida Mega Draft che ha riscosso un botto di successo. Non so se vi ricordate i tornei, gli anni che arriva primo, tutti che hanno detto questa modalità è bellissima, anche a me piace un sacco. Per questa stagione il competitivo è tutto sfida mega strategica. Cioè immaginatevi un Brawl Stars dove la Power League sia tutta quanta cappata a livello 9 da sfida, boh non lo so, metto un livello a caso dove ti danno tutti quanti i gadget, tutte quanti le star power, tutti quanti i gears e tutto quanto sbloccato. Te piacerebbe? E invece lì non succede. Oppure anche un push dei trofei dove per pushare i trofei hai tutti quanti i brawler sbloccati, tutti quanti livellati, precisi, con tutto sbloccato. Non esiste. Al momento questa è la prima cosa che hanno fatto di questo tipo su Clash Royale. Vedete regà a livello 11 a sinistra per sfida ante 1. Ah giusto, dato che è molto più complicato poi dopo vi dirò le mie considerazioni a riguardo per quanto riguarda questa sfida. Hanno ridotto il numero dei gradini. Precedentemente il totale era 93, adesso è 76. Hanno alleggerito un pochino. Sarò anche molto curioso di vedere se ci sarà il moltiplicatore derivante dalla stagione precedente. E' quello che ti aiuta a salire un bel po' per arrivare circa sotto campione. Mo' non mi ricordo quant'era il calcolo preciso. Certo, con meno gradini si sale ancora di più. Comunque vedete che la modalità per entrare è mega strategica. Prendo pure le monete giusto per togliere l'obiettivo da fare e così vi faccio vedere tutta quanta la lega per bene. Si sale 7 gradini, sordi, agogo, livelli 11, mega strategica. 6 gradini, sfidante 3, sempre livelli 11, ricompense, 8 gradini. Ovviamente qua ci stanno sempre i gradini gold fino ad arrivare a campione, poi dopo a campione non ci saranno più. Livelli 11, maestro 2. Si sale 11 vittorie, maestro 3, livelli 11. Ancora più in alto, 9 vittorie, campione, livelli 11. 8 vittorie, campione grandioso. Si continua, 8 win, campione royal. Ah, giusto, dovrebbero aver modificato pure le motte. Non è quella che vedete, mo' non mi ricordo andò sta qui, ma ci dovrebbe essere quella del principe nero. Ci saranno una marea di motte, il problema è che non si possono più prendere dagli eventi. Bisogna giocare tanti eventi e prenderle con i gettoni piuttosto che le ricompense. Quindi sì, le puoi prendere, però ci potevi prendere le risorse. Comunque sono tutti i calcoli da fare. Campione 8, campione grandioso. 8, campione royal. Ed infine 11, per sempre livelli 11, campione definitivo. Poi dopo, medagliette. Questo è il nuovo competitivo di Clash Royale. Io, ragazzuoli, non mi sarei mai aspettato una roba del genere dalla Supercell. Perché, ripeto, questo annulla totalmente il pay to skip. È logico che non possono tenere questa modalità perenne all'interno del gioco, perché altrimenti vai a snaturare completamente il competitivo che poi dà luogo a finali mondiali e così via. Se specializzi il gioco nella mega sfida strategica, a quel punto tutte quante le competizioni ufficiali devi togliere la possibilità di giocare l'1v1 con il deck a scelta e andare con la mega sfida strategica. Cosa assolutamente impossibile. Per questa stagione avremo questa possibilità. Io voglio sapere assolutamente la vostra. Qui sotto nei commenti, lasciatemi tanti commenti, Grax li legge sempre, eccetera. Ci sarà un po' di dibattito, perché Grax riceve sempre i commenti. Cambia deck, cambia deck, Grax sempre lo stesso. Sarò costretta a cambiare deck con una nota negativa che è il tempo. Poi dopo ve ne parlo. Però a quel punto sarete anche voi costretti a cambiare deck. Tutti quanti dobbiamo cambiare deck, tutti quanti veniamo messi in discussione. Per questo molti pro player non stanno prendendo bene questa iniziativa. È totalmente un altro gioco, non si va con deck meta, bisogna scegliere bene le carte per far sbagliare magari l'avversario e prende la carta che counter l'avversario. Quindi per quanto mi riguarda è assolutamente positivo. Avremo una stagione dove tutti quanti saremo di nuovo in gioco. E altra cosa, dobbiamo ringraziare Ciccio, perché Ciccio è andato a dire a quelli di Supercell di inserire, di valorizzare questa modalità all'interno del gioco, proprio nel cammino delle leggende. Alla fine l'hanno fatto. Mo' tocca capire se è grazie a Ciccio oppure proprio grazie all'approvazione che ha avuto in generale questa sfida, dato che era stata apprezzatissima nel torneo globale. Tutti quanti l'hanno giocata, l'hanno parlato bene. E quindi la Supercell ha preso tutta questa wave positiva e l'ha inserita. Comunque GG, io sono stracontento di fare questa stagione totalmente differente. Però ci sono due note negative. La prima è il fatto che è molto più lenta rispetto a startare una partita normale. Perché prima mettevi il tuo deck, startavi il match e andavi in partita. Adesso invece starti il match, devi piccare tutte quante le carte e poi fai la partita. È un pochino più macchinoso. Però diciamo per giocare tutti quanti in maniera uguale a livello 11 accetto il compromesso. Un'altra cosa che invece mi fa di brutto storcere il naso è il fatto che in questa modalità qui la scelta delle carte, ovvero chi inizia per primo, è casuale. È logico che se l'avversario comincia per primo, magari si prende il suo archetipo dove si sente comfort. Che potrebbe combaciare con il tuo. Quindi mettendo che nelle carte c'è start domatore, l'avversario prende il domatore, è logico che Grax deve riviegare con altre scelte. Però allo stesso tempo potrei sapere come andare a difendere il domatore. Ci sono pro e contro. Io sono stracurioso di sapere la vostra. Però come Grax sarà costretta a cambiare deck. Che tra l'altro si sposa perfettamente con il discorso mettere il domatore sul secondo account e sul primo account ci rimettiamo in gioco. Anche voi dovrete cambiare il vostro deck. Ciao ne Gran Cavalieri. Ciao ne al Pecca. Ciao ne al Golem dell'Isir. Ciao ne a Tanchino davanti. Cimitero. Ciao ne metto la Vignalave Camastino e carico dietro un mongolfiere. Io godicchio. Prenderò sicuramente una vagonata di schiaffi. Fatemi sapere cosa ne pensate. Vi chiedo di lasciare un like. Grax penso che vi abbia detto tutto. Iscrivetevi. Campanella. Ci sono pro e contro. Sto comunque tanto in hype. Codice Grax alla fine dello shop. Un kiss. Ciao ciao.